vediamo un po come si comporteranno le squadre intanto qua arrivano i primi due punti noi pubblicheremo il recap di giornata con statistiche tutte le partite che potete rivedere qui intanto grandissima la penetrazione e la maodo il miglior realizzatore dei suoi possiamo stare a rimbalzo quello che vuole intanto arriva un altro canestro bellone bello il flotter e altri due punti per forlì e nello specifico ente ha giocato meglio di squadra fino adesso ho trovato non solo con maodo ma anche con il quindi contro riscambi per tutta la sua dorata buonissimo il lob sta il gioco di forlì era anche riuscito ma bisogna vedersi e accomodarsi in tribuna bruttissima la palla persa qui arrivata è stato sempre più difficile col passare del tempo quando arriva ecco proprio la palla recuperata di pezzani che va a schiacciare in contropiede buonissimo 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 buonissimo